Gentili telespettatori, buona giornata. Il Boeing diretto a Roma non risponde alle torri di controllo, si alzano immediatamente in volo i caccia italiani. Una coppia di veicoli caccia F-35A del 32esimo stormo di Amendola Foggia sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per intercettare un aereo di linea Boeing 787 decollato dall'aeroporto internazionale di Mombasa in Kenya e diretto a Roma fiumicino che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale sopra i cieli della Calabria aveva perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo civile. L'ordine di decollo rapido in gergo tecnico scramble è stato dato dal COAC, il Combinet Air Operation Center di Torrejon in Spagna, ente nato responsabile dell'area in coordinamento con il comando operazioni aerospaziali COE di Poggio Renatico a Ferrara. Il personale guida caccia del 22esimo gruppo Dami di Licola Napoli ha fornito ai piloti dei due F-35 in volo le coordinate e le informazioni necessarie per raggiungere il veivolo civile ed effettuare la prevista procedura di identificazione per accertare che non vi fossero condizioni di emergenza. Prima che la coppia di caccia militari raggiungesse il veivolo civile l'equipaggio del 787 aveva ripristinato le comunicazioni radio con gli enti di controllo del traffico aereo. La rapidità in cui i veicoli militari si sono alzati in volo è la dimostrazione dell'elevato livello di prontezza all'interno del servizio di difesa dello spazio aereo nazionale e della Nato, raggiunto grazie alla professionalità degli equipaggi e dell'aeronautica militare. Da gennaio 2022 il 32esimo stormo contribuisce alla difesa aerea dello spazio aereo sia nazionale che della Nato con i veicoli veivoli F35 in prontezza d'allarme. Sono dei caccia di ultima generazione, di quinta generazione, che sono sempre con il motore acceso e con gli armamenti. I piloti sono lì a pochi metri dall'aereo sempre acceso e a turno questi piloti sono sempre pronti a partire in un tempo massimo di otto minuti. In un tempo massimo di otto minuti si trovano sull'obiettivo, cioè dal momento che suona l'allarme al momento in cui il caccia è sull'obiettivo passano otto minuti massimo, che è il tempo per raggiungere tutti gli estremi del paese. Nel caso di eventuale ordine scramble da parte della competente Combined Air Operations Center della Nato, i veivoli di quinta generazione F35 decollano in pochissimi minuti per intercettare ed individuare eventuali veivoli sospetti, contribuendo con specifiche capacità operative tecnologiche di ultima generazione al servizio di allarme. Oltre al 32esimo stormo con gli F35 di quinta generazione c'è anche il 32esimo stormo e, come vi dicevo, il sesto stormo dell'aeronautica, altri 4 stormi dell'aeronautica militare con veivoli Eurofighter, quindi i caccia europei, che assicurano il servizio di difesa aerea. E poi c'è il quarto stormo di Grosseto che ha il compito della difesa della capitale, quindi il quarto stormo di Grosseto, i caccia Eurofighter che ci sono lì, possono intervenire sui cieli della capitale in essere già sul cielo della capitale in meno di 5 minuti dall'allarme. Il tempo proprio con i motori già accesi di decollare e sono già sulla capitale. Il quarto stormo di Grosseto, il 36esimo stormo di Gioia del Colle e il 37esimo stormo di Trapani e il 51esimo stormo di Istrana. Questi caccia e l'aeronautica militare fanno parte delle forze di pronto intervento della Nato. Quindi questo dispositivo c'è in tutti i paesi Nato e questo dispositivo unito dei 27 paesi è anche operativo ovviamente per una minaccia che viene da fuori dai confini europei. Pertanto in caso di una minaccia esterna tutti e 27 i paesi Nato in pochi minuti avrebbero in volo caccia per contrastare una minaccia proveniente da fuori i confini europei. Quello del Boeing diretto a Roma non è la prima volta successe tanti anni fa. Dopo l'11 settembre c'era il governo Berlusconi. Berlusconi venne svegliato di notte e gli vennero passati al telefono i piloti dei caccia Tornado che erano già sull'obiettivo. L'obiettivo era un aereo di linea con 350 passeggeri che stava arrivando non mi ricordo da dove che non rispondeva alle torri di controllo. È entrato in Piemonte questo aereo e si dirigeva verso Roma Fiumicino quindi sulla capitale e l'aereo non ha continuato a rispondere fino a ridosso del Lazio con i due caccia Tornado che erano già dietro l'aereo a poche centinaia di metri. A quel punto dato che non rispondeva l'aereo il comando di difesa aerea ha contattato la presidenza del consiglio tramite gli alti comandi militari ovviamente e hanno passato al presidente del consiglio Berlusconi svegliato di notte perché era di notte gli hanno passato i piloti. I piloti attendevano da Silvio Berlusconi l'ordine di abbattere l'aereo o non abbattere l'aereo quindi un aereo di linea con 350 persone che tornavano da qualche vacanza o da chissà dove che non rispondeva a nessuno ed era diretto proprio sulla capitale. I due caccia con i due capitani dei due Tornado che aspettavano l'ordine del presidente del consiglio. A quel punto Berlusconi non diede l'ordine di abbattere l'aereo rischiando ovviamente che l'aereo fosse dirottato e diretto a schiantarsi magari sul Vaticano o sul centro di Roma. Non diede l'ordine di abbattere l'aereo. Alla fine per fortuna per buona fortuna l'aereo non era dirottato ma non riusciva a comunicare con nessuno. Grazie a tutti e arrivederci a presto.